Novità imminenti per la visione su digitale terrestre delle tv locali e nazionali. Con l'arrivo della tecnologia 5G, tutte le emittenti tv dovranno liberare le frequenze occupate. Dunque tutte le televisioni locali e nazionali, con decreto ministeriale, dovranno abbandonare la banda 700 MHz e spostare i canali sulla porzione di spettro rimanente. Anche l'emittente agropolese Cilento Channel sarà oggetto di questo cambiamento, abbandonando il canale attuale 636, facendo però un salto di qualità, ovvero il passaggio alla trasmissione televisiva con copertura regionale sul numero 180. Quindi a partire da luglio 2022 Cilento Channel si vedrà in tutta la regione Campania sul canale 180 del digitale terrestre. Insieme a Cilento Channel tutte le tv, sia esse provinciali che regionali e nazionali, sono obbligate ad adottare nuove tecnologie di trasmissione. In provincia di Salerno, entro il 28 giugno 2022, gli attuali canali visibili sul digitale terrestre cambieranno numerazione e solo alcuni riceveranno l'upgrade per trasmettere in tutta la regione Campania. Cilento Channel, in sinergia con una nuova società, sta organizzando una struttura tecnica all'avanguardia, attraverso l'ampliamento della redazione giornalistica e tecnica, per ricoprire l'importante ruolo da svolgere in regione Campania, dove insiste una popolazione di circa 6 milioni di persone e una copertura totale del 95%. Infatti la rete di trasmissione è la stessa che ospita i canali Mediaset. È indispensabile dunque che i telespettatori si ricordino di risintonizzare i decoder e i televisori a fine giugno 2022 per continuare a seguire le trasmissioni di Cilento Channel.